Musica, arte, presentazioni di libri e teatro. Diverse le contaminazioni artistiche che animeranno la nona edizione del Dedelo Festival che si terrà a Caltabellotta per l'intera giornata di martedì 30 agosto. Sarà all'eremo di San Pellegrino ad ospitare gran parte delle iniziative culturali in programma. Direttore artistico Ezio Noto. Siamo arrivati alla nona edizione quest'anno ed è sempre una meraviglia poter portare l'arte e diverse arti a Caltabellotta. Quest'anno purtroppo per tutta una serie di problemi concentreremo tutto in una giornata, la giornata del 30 agosto a partire dalle ore 10.30. Però sarà una giornata intensa come è solito fare al Dedelo Festival. La mattina ci sarà una bellissima incursione nel laboratorio artistico di Salvatore Rizzuti dove il grande scultore Caltabellottese farà vedere le sue cose e dimostrerà anche ai partecipanti come nasce una scultura, come si opera sul campo per poi trasferirci sempre assieme ai poeti, assieme a musicisti, al Museo Civico dove lo scultore ha donato 33 opere per fare, come dicevi bene tu, delle contaminazioni artistiche fra poesia, musica e scultura. Nel pomeriggio si presenteranno alcune tesi e ricerche su Caltabellotta che riguardano il dialetto, che riguardano l'eremo di San Pellegrino, ecc. Per poi iniziare una carrellata di presentazione di libri, saranno quattro in questa edizione. Una parte poi dedicata al teatro con un monologo di Lucia Alessi che si chiama 149T ed è tratto una storia vera, una storia di una immigrata quindicenne, violentata e incinta. Un monologo di 15 minuti molto interessante, molto toccante. Per poi chiudere con una gem grande finale, con la partecipazione di diversi musicisti, molti arriveranno a sorpresa. Ci sarà Francesco Giunta, ci sarà la Compagnia Popolare Favarese, ci sarà Di Sio, ci sarà Mirko Di Stefano e tanti altri amici di Sciacca che verranno a darci un contributo. Una giornata molto intensa in un posto baciato da Dio. Quest'anno grazie alla collaborazione e alla prologo di Sinodo come direttore artistico abbiamo deciso di valorizzare, vista l'occasione della riapertura dell'eremo e del convento fruibile all'utenza, di valorizzare questo sito attraverso Dedalo. Dedalo che ormai è una non edizione, per noi è motivo di orgoglio perché fa sì che fa conoscere Caltabellotta, anche itinerante nelle altre realtà in cui Dedalo è stato realizzato. Indubbiamente Dedalo rappresenta un momento di valorizzazione territoriale sotto tutti i punti di vista. Possiamo invitare chi ci ascolta a Caltabellotta per vivere questa giornata con il Dedalo Festival? Sicuramente sì, è un invito rivolto a tutti affinché il giorno 30 agosto possiate essere a Caltabellotta e deliziarvi con le arti del Dedalo e soffrire di un palcoscenico imponente come quello dell'eremo di San Pellegrino.